Come altre persone, come anche Vilma, come anche, vabbè, come anche Edoardo Tavassi, quando sono entrate qui, comunque mi hanno detto, ma soprattutto Vilma ultimamente, mi ha sempre fatto i complimenti, come siete carini, si vede che sei presa anche te, ma perché dicono così in puntata, perché Sonia dice questo, perché quell'altro, sei molto presa, come siete carini, poi se vi sposate invitateci al matrimonio, poi vedo questi confessionali, per me siete delle persone false, che lavate le serpente, lo sapevo, ma pensavo bisce, non vipere, che puoi spiegare il veleno. Facciamo così, allora, visto che io so quello che ho detto di te in questi mesi, va bene, io ti dico che, e puoi chiedere a Edoardo, tutto fatto, tranne che rosicare per la tua relazione o dire qualsiasi cosa perché ti vada contro, ti assicuro che io con Edoardo ho sempre e solo parlato in modo che voi possiate costruire qualcosa, e non ho mai messo delle parole minatorie su questo, e puoi chiedere a lui se non è vera questa cosa. Detto questo, sono io quello che ci resto male, perché ti assicuro che il mio intento non è mai stato quello né di dividervi, né di allontanarvi, anzi, ho sempre speso parole costruttive, te lo sicuro. No, Alfonso, volevo dirti una cosa che credo che ti interesserà in realtà, non volevo difendere Antonella come al solito, e volevo dire che a Daniele questa è una cosa che io non gli ho detto perché gli ho dato poco peso, ma una volta eravamo a poca distanza da Daniele, probabilmente Daniele non si riferiva a noi quando ha detto questa cosa, ma ha fatto una battuta a Luca che io e Antonella quando l'abbiamo sentito che siamo guardati e abbiamo detto ma ce l'avrà con noi.